guarda quasi finito ormai sono già perfetti guarda di questo file di questo file che non mi spiega che mi piace molto adoro guarda la piega così è perfetta è perfetta mi piace un sacco hai visto? senti? tocca una meraviglia sono morbidissimi sono tutti i prodotti che abbiamo fatto oggi guarda lucentezza fantastici e hanno una consistenza questa è la parola della creatina più colposi sì esatto la creatina e la lucentezza dall'ossigenoterapia le hanno dato veramente una botta di vita fantastico siamo prontissimi adesso grazie Vale ma di nulla grazie mille mi abbrassavo a ritornare certo